Il sindaco è riconosciuto in quanto tale Io non so se si può traslare così automaticamente a livello nazionale ma io lo trovo un fatto positivo, l'ho sempre detto, l'ho detto anche in questi anni dopo l'esperienza di sindaco, io credo che si debba guardare con maggiore attenzione a come funzionano le amministrazioni locali, questo vale sia per l'aspetto elettorale ma anche in generale, cioè se il paese tenesse maggiormente in considerazione i sindaci il paese oggi potrebbe essere più unito, più forte, con più sviluppo e meno disuguaglianze. Il problema che dobbiamo ancora incontrare in governo nazionale, io ne ho visti tanti, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conteù e Conteù. Forse l'ultimo governo ha dato dei segnali che vanno finalmente nella direzione di avere una maggiore considerazione per gli enti locali ma ormai io penso che nel futuro si farà molta difficoltà a trovare un missionario che si mola ad amministrare, amministrare, anche ascoltando qua sembra che tu devi stare ogni giorno a guardarti da come amministrare, le persone oneste sono quelle più indifese in questo momento del nostro paese e siccome i sindaci all'interno della politica complessivamente sono anche le persone più per bene perché sono innanzitutto controllabili, conoscibili e i quali sono sottoposti innanzitutto proprio anche per la legge elettorale, un controllo popolare molto forte, io trovo profondamente ingiusto che vengano colpiti soprattutto i sindaci. Io nei miei anni di esperienza di sindaco mi sono dovuto guardare più da pezzi di Stato che dalla gente in mezzo alla strada, la gente in mezzo alla strada quando protesta è molto più democratica, quindi se la proposta va nella direzione di guardare a come funzionano le amministrazioni locali, al mio sostegno, penso che l'elezione diretta sia un fatto positivo, mi auguro che questa maggioranza parlamentare, questo governo ma soprattutto il Parlamento negli anni che ha a disposizione guardi diversamente agli enti locali, altrimenti voglio dire è veramente una situazione un po' curiosa, che si chiede sempre agli enti locali, si chiede sempre, si chiede sempre, si innalzano gli ostacoli e poi si toglie, si toglie, si toglie. Poi vorrei sapere, tutte queste persone e questi professionisti della tastiera, se mai si sono immaginati di stare un momento dalla parte di chi sta in mezzo alla strada, veramente, che non appartiene alla casta, perché se guardiamo i compensi della politica i sindaci sono anche in assoluto i meno pagati e quelli che hanno la maggioranza delle responsabilità. Vabbè ma è un paese alla rovescia, questo lo sappiamo. Attendiamo con fiducia una maggioranza parlamentare, un governo e complessivamente un'architrave istituzionale e statuale che comincia a vedere veramente dove ci sta il prevalente e dove ci sta il superfluo.